Alle nostre spalle la splendida e meravigliosa cornice del Teatro Fraschini, uno dei gioielli più preziosi di Pavia. Un Teatro Fraschini che presenta e si rilancia la città con opere di riqualificazione e miglioramento strutturale che lo porteranno ad essere non più solamente soltanto centro di interesse culturale, ma anche polo congressistico di Pavia. Sindaco Alessandro Cattaneo, importanti lavori di innovazione al Teatro Fraschini, un comune che crede sempre di più in questo gioiello della città. Il Teatro Fraschini lo conosciamo tutti come baricentro culturale delle attività cittadine, però da oggi lo vogliamo far conoscere anche come un luogo dove è possibile fare convegni prestigiosi, momenti di incontro importanti, che lo vogliamo offrire a tutte le istituzioni della città e anche a tutti i privati che possono avere bisogno di affittare una struttura come questa. Mancava qualcosa per riuscire ad essere competitivi, offrire ad aziende, a istituzioni ciò di cui avevano bisogno e per questo abbiamo fatto grossi lavori di infrastruttura. Primo punto, abbiamo sostituito le caldaie più efficienti, risparmiamo, abbiamo un riscaldamento più adeguato e più efficiente che è la cosa più importante, secondo anche le luci uguali, risparmio energetico e innovazione e terzo punto l'area condizionata, il raffrescamento per chi fa un convegno nel periodo caldo è indispensabile avere un clima ideale. Ora con tutte queste opere io dico che Pavia ha il suo centro congressi e sul centro congressi si chiama Teatro Fraschini, un'infrastrutturazione adeguata, un contesto storico di bellezza incredibile e quindi questo è il messaggio che vogliamo lanciare forte, abbiamo infrastrutturato e attrezzato il Teatro Fraschini per essere il centro congressi della nostra città, tocca ora le istituzioni, rivolgersi a noi e noi apriremo con convinzione ai privati. Professor Graziano Leonardelli, presidente vicario del Teatro Fraschini, un Teatro Fraschini che con questi importanti lavori si propone e si rilancia oltre che come centro culturale anche come polo di interesse per la città tutta. Io ho sempre pensato che il fulcro dell'attività culturale del Comune di Pavia, accanto ovviamente al sistema museale del castello Visconteo fosse proprio il Teatro Fraschini. Il Teatro Fraschini aveva bisogno di interventi strutturali di ammodernamento anche per contenere la quantità di spesa corrente e a questo punto tramite il finanziamento del Comune e i finanziamenti diretti da parte della Fondazione Teatro Fraschini nell'ultimo anno abbiamo fatto due interventi che ritengo importanti. Il primo è che abbiamo cambiato le caldaie che erano ormai obsolete e al limite del fuorilegge, implementando delle caldaie a condensazione attraverso la collaborazione con l'ASM Lavori Pavia. La qualcosa ci rende diciamo meno onerosa durante l'anno la gestione del caldo calore e soprattutto l'ultimo intervento è stato quello della climatizzazione del teatro di modo che si possa usare il Teatro Fraschini come centro congressi e anche per altre attività ovviamente durante i periodi caldi e parlo di luglio-agosto soprattutto perché a Pavia come si sa c'è un'umidità durante i mesi estivi piuttosto alta e il Teatro Fraschini era perfettamente chiuso durante tutto luglio e tutto agosto. A questo punto con questi interventi si può offrire alla città, agli enti pubblici, agli enti privati a chi ne ha bisogno, in Pavia anche fuori Pavia, l'utilizzo del teatro per convegni, per convention e per altre cose.